L'attore di cui parliamo oggi prende il nome di Christopher Michael Pratt, al secolo conosciuto come Chris Pratt, che nasce in Virginia il 21 giugno 1979 e si è fatto largo, si sta facendo largo tra i migliori attori emergenti del panorama hollywoodiano, forse non più emergenti perché il protagonista soprattutto è conosciuto per questo, per il ruolo di Peter Quill, di Star-Lord, nei film dei Guardiani della Galassia e per le apparizioni che ha fatto anche nelle due pellicole degli Avengers, Avengers Infinity War e Avengers Endgame, ma è conosciuto anche da un'altra buona fetta del pubblico statunitense e internazionale perché è il protagonista della trilogia di Jurassic World. Chris Pratt ha iniziato la sua carriera, c'è da dire una bella chicca proprio perché credo che la madre fosse di origini tedesche, perché lui parla perfettamente la lingua tedesca, oltre ad avere un ottimo inglese come possiamo vedere all'interno delle pellicole a cui ha lavorato nel panorama hollywoodiano. È stato protagonista prima di tutto, prima di entrare nel cinema, di due serie che sono Everwood e Parker Recreation e alcuni di voi che ha avuto buon occhio e ha ottimi ricordi se lo ricorderà sicuramente per una piccola apparizione in O.C., la serie, non la definirei una sitcom, ma un teenage drama statunitense che ha avuto grande successo soprattutto nei primi anni del 2000. Diciamo che O.C. fu il perfetto erede di quello che noi conosciamo come Dawson Creek. La sua carriera cinematografica invece è iniziata per Chris Pratt con ruoli, diciamo così, di supporting actor, ovvero ruoli da attore non protagonista. I film sono Wanted, Scegli il tuo destino, Bride Wars, La mia miglior nemica, Jennifer's Body, L'arte di vincere, Zero Dark, Dirty, E.R. con Joaquin Phoenix. Ha già qui in Her, al fianco di Joaquin Phoenix, ha un ruolo veramente marginale, però che viene tenuto in considerazione all'interno dell'intera pellicola e ci pone già quello che sarebbe stato poi il suo Star Lord, il suo Peter Quill nei Guardiani della Galassia, ovvero una sorta di personaggio un po' cazzone che va a interpretare. E solitamente sono questi i ruoli che lui interpreta, ma c'è un film che è il film dove interpreta il ruolo di Jim Preston che è il protagonista di Passengers, ed è un film drammatico molto bello che recita a fianco di Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence che tra l'altro è una delle migliori attrici femminili nel panorama attuale del mondo della recitazione e qui questo ruolo drammatico, diciamo così, lo porta in auge e fa vedere veramente quello che sa fare Chris Pratt. Una carriera molto interessante che è ancora agli inizi, secondo me, perché vedremo Chris Pratt sicuramente lavorerà su diverse pellicole ancora, come dicevamo parla il tedesco, il padre era anche un lavoratore nelle miniere d'oro in Alaska e di Taconite in Minnesota e poi cominciò a intraprendere invece un'attività di ristrutturatore edile. Nel 1997 Chris Pratt si diploma all'Alex Stevens High School, dove si è distinto come atleta in sport, il suo fisico è molto prestante e si vede come lotta libera e football. Abbandonerà il college dopo un semestre, inizia a svolgere diversi lavori come venditore porta a porta di coupon e anche spogliorellista part-time. All'età di 19 anni si trasferisce a Maui, nelle Hawaii, vivendo praticamente come un senzatetto e dormiva all'interno di un furgone in una tenda sulla spiaggia, mentre poi lavorava anche all'interno del contesto delle Hawaii, a Maui, come cameriere in un ristorante. Il ristorante era Bubba Gump Shrimp Company ed è stato notato proprio lì dall'attrice e regista Rae Dawn Chong, lei lo ha scelto nel suo debutto alla regia per un cortometraggio horror che era Cursed Parte 3. Quindi ha iniziato così la carriera recitativa di Chris Pratt, che poi come abbiamo detto lo vediamo, per chi ha veramente un buon occhio e tanto ricordo, perché partecipa proprio alla quarta stagione di DOC nel ruolo dell'attivista Winchester Shea Cook. E questo è un po' per vedere quello che ha fatto Chris Pratt. Nel febbraio 2020 sono già iniziate invece le riprese per il terzo capitolo della trilogia di Jurassic World, Dominion, che porta la regia di Trevor Row, e il sesto capitolo della saga. Ha conosciuto la moglie, che sarebbe anche l'attrice, Anna Faris, sul set di Take Me Home Tonight, e dopo due anni fidanzamento si sono sposati a Bali il 9 luglio del 2009. Chris Pratt ha un figlio, che si chiama Jack, è nato il 25 agosto 2012, mentre con la moglie ha annunciato la separazione il 6 agosto del 2017. Il 13 gennaio Chris Pratt annuncia poi il fidanzamento ufficiale con Katherine Schwarzenegger, che è la figlia di Arnold Schwarzenegger. E questo già richiama, diciamo così, un altro attore. La coppia si è sposata l'8 giugno 2019. Il 10 agosto 2020, ovvero l'estate passata, è nata la loro primogenita, Lila Maria, credo che si pronunci poi Laila Mariah. Quello che penso di Chris Pratt, pur non avendo una carriera forte ancora sotto determinati aspetti, perché come abbiamo visto, molto spesso sono stati i ruoli per Teenage Drama, ruoli che ha portato avanti con Stile Un Pocazione, molto vicino alla commedia, comunque nelle sue interpretazioni. L'unica opera drammatica dove noi lo andiamo a ritrovare è per l'appunto Passengers. Quindi c'è ancora un po' da lavorare, forse all'interno della carriera di Chris Pratt, che comunque è stato definito nel 2018, dalla rivista People, il secondo uomo più bello del mondo. Difficile negare il contrario, tra l'altro, diversi rumors dicono che forse proprio per il suo fisico prestante da atleta, da vero e proprio adone, possa prendere il ruolo di Hercules nel live action della Disney, del nuovo riadattamento cinematografico. Chris Pratt è un attore che apprezzo, è un attore che apprezzo perché lo trovo solitamente molto bravo e partecipe nei propri ruoli, riesce a strappare una risata molto facilmente perché si adatta perfettamente e si cuce addosso il ruolo del personaggio e lo fa rompendo molto spesso, soprattutto questo lo notiamo all'interno dei film dei Guardiani della Galassia, rompendo molto spesso la quarta parete, ma vedremo sicuramente una crescita, una crescita che si è potuta vedere poi quando ha preso il ruolo in Passengers, come dicevamo già precedentemente, e poi sicuramente per il ruolo all'interno di Jurassic World. Quindi questa è più o meno la carriera di Chris Pratt, che comunque si spera possa diventare ancora più grande, perché è un attore che deve ancora varare la sua completezza, e sicuramente troveremo il personaggio complesso di Chris Pratt, dove lui porterà avanti una recitazione nuova, già spontanea sotto tutti gli aspetti che volete, ma nuova dal punto di vista drammatico. Non si fermerà Passengers, io di questo ne sono certo.